C'era anche Francesca Biondo, direttrice nazionale di Federpesca, alla presentazione del progetto Emerim sulla sostenibilità ambientale nel mondo ittico. La direttrice di Federpesca ha ribadito l'essenzialità di un settore che resta vitale per l'approvvigionamento alimentare sulle tavole degli italiani e per il contributo in termini economici dato al Paese. Il momento per la pesca è particolarmente complicato ormai da qualche anno e anche questo 2023 non ha dato grandi soddisfazioni al settore perché ovviamente soprattutto i problemi legati alla crisi energetica, al caro gasolio hanno ridotto grandemente i margini di profitto delle nostre imprese e svolgere questa attività è sempre più complicato. Nella consapevolezza però che siamo un comparto primario fondamentale per l'economia del Paese, per garantire approvvigionamento di prodotti ittici sulle tavole degli italiani e quindi il nostro settore faticosamente va avanti. Il mondo della pesca attende ancora gli indennizi per il fermo pesca. Biondo inoltre stigmatizza la norma sull'obbligo di installazione delle telecamere a bordo dei peschereggi. Abbiamo anche segnalato alla Commissione europea e ai parlamentari che ci sembra oltretutto in contrasto anche con lo statuto dei lavoratori che vieta la ripresa degli spazi di lavoro e che sarebbe un unicum in tutti i settori produttivi perché nessuno di noi viene controllato con una telecamera mentre sta in ufficio, dentro un'impresa o nel suo luogo di lavoro. E quindi, come dicevo, prima ancora della sua applicazione contestiamo la filosofia di questa norma che lede la dignità di questo mestiere.